Le precarie condizioni di un immobile di via Sant'Angelo a Favara inducono il comando della Polizia Municipale ad istituire in zona il senso unico di marcia. Chiusa completamente al traffico, la via Venezia attraversa su cui si affaccia l'immobile pericolante. L'edificio a due piani, ubicato dai numeri civici 129 a 133, nel 2010 era stato interessato da un'ordinanza di eliminazione pericoli. Venerdì scorso gli abitanti della zona hanno sentito un forte boato provocato dal crollo del solaio interno dell'edificio. Cedimento sicuramente dovuto alle forti piogge abbattutesi in città nei giorni scorsi e che hanno ulteriormente appesantito la gialabile struttura. Vistose e preoccupanti sono le lesioni strutturali nel prospetto. Adesso l'ufficio tecnico comunale notificherà ai proprietari dell'immobile un altro atto di intervento di eliminazione dei pericoli. Che dalla relativa consegna dovrà essere eseguito entro cinque giorni. Passati questi, il comune, vista l'urgenza del caso, potrebbe intervenire con mezzi propri, rivalendosi sui proprietari. L'intera area prospicente dell'immobile è stata transennata. Nello stesso tratto è stato altresì istituito il divieto di sosta con rimozione. In virtù della nuova ordinanza sarà consentito il transito in via Sant'Angelo ai soli mezzi provenienti da Corso Vittorio Veneto e via Ugo Foscolo. Per chi proviene da Viale Berlinguer invece dovrà necessariamente svoltare a destra in direzione via Piola Torre. Obbligo quest'ultimo non imposto per i mezzi pesanti che potranno liberamente transitare dalla via Sant'Angelo in entrambi i sensi di marcia. In via Sant'Angelo all'altezza dei numeri civici 129, 131 e 133 con le ultime piogge si è accentuato un pericolo in questi immobili in quanto è crollato il tetto e una parete della costruzione nella parete si registra una grossa crepa. Pertanto l'ufficio tecnico ha disposto la chiusura a senso unico della via Sant'Angelo nel tratto prospiciente agli immobili nell'attesa che venga notificata l'ordinanza di eliminazione di pericolo pubblico ai proprietari. Pertanto oggi stiamo provvedendo a mettere in sicurezza la zona, sia la via Venezia sia la via Sant'Angelo per evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità. Naturalmente il disagio dei cittadini purtroppo non è inevitabile e la cosa che mi urge comunicare è che il senso unico sarà per tutti i veicoli, per gli autoveicoli, mentre per i mezzi pesanti sarà data loro la possibilità di entrare rispettando il senso unico alternato in quanto la via Sant'Angelo è l'unica via che permette ai mezzi pesanti di accedere verso la via Ugo Foscolo.